L'ASL Salerno fa il punto sulle dosi vaccinali somministrate. L'ASL spiega una nota stampa. Ad oggi è somministrato alla popolazione oltre 75.000 dosi di vaccino, di cui 20.000 agli oltre 80 anni e circa 12.000 al personale scolastico. Si calcolano gli oltre 20.000 vaccini somministrati dall'azienda ospedaliera del Ruggi e si arriva a contare oltre 100.000 vaccini, cioè il 10% della popolazione dell'intera provincia riferente all'ASL Salerno. Per fare ciò, su tutto il territorio della provincia sono stati attivati più di 80 punti vaccinali dislocati in strutture aziendali, scuole, residenze sanitarie assistite e strutture comunali. Al fine di chiarire i motivi di quelli che possono essere percepiti come fase di stallo nella somministrazione del vaccino alla popolazione, sottolinea la nota dell'ASL Salerno, giova ricordare che i vaccini usati hanno bisogno di una seconda somministrazione a distanza di 21 giorni per Pfizer, 28 giorni per Moderna e 3 mesi per AstraZeneca, per cui è necessario tener conto della necessità di avere dosi disponibili per poter fare la cosiddetta dose di richiamo. Diversamente si vanificherebbe l'inoculazione della prima dose. Inoltre, continua l'ASL, in funzione delle diverse modalità di conservazione e fruizione, sono state create due distinte filiere per le due tipologie di vaccini, gli operatori sanitari e gli ultra ottantenni vaccinati nelle strutture ospedaliere con Pfizer e Moderna vaccino a mRNA, il personale scolastico, universitario e le forze dell'ordine vaccinati nelle scuole e in altre postazioni con AstraZeneca a vettore virale. Si sta lavorando, aggiunge la nota dell'azienda sanitaria salernitana per poter iniziare nel breve termine la vaccinazione alle migliorie dei pazienti fragili, affetti da patologie gravi con vaccino Pfizer e Moderna. È stato già avviato il confronto con i medici di medicina generale. Per la prossima settimana è prevista la firma dell'accordo decentrato con i rappresentanti della categoria. Questo accordo prevede che i medici di famiglia potranno scegliere se somministrare il vaccino presso il proprio studio, presso il domicilio del paziente o presso i centri vaccinali dell'ASL Salerno, che verranno messi a disposizione dall'azienda. Questo permetterà di avere una rete capilarmente diffusa su tutta la provincia, sottolinea ancora l'ASL Salerno, ottenendo un notevole incremento delle vaccinazioni, che rappresenta la principale azione di contrasto alla diffusione del virus.